Il liceo Andrea Bafile dell'Aquila si è preparato a vivere una mattinata all'insegna dell'entusiasmo. Lo stadio Gran Sasso del capoluogo di Regione ha ospitato un evento tanto atteso e significativo che chiude in bellezza un anno scolastico ricco di attività e successi. Quella di oggi è stata una mattinata dedicata al ricordo del professor Fabrizio Scarcella, detto Schultz, figura cara e indimenticabile per l'intera comunità scolastica. I ragazzi, tutte le classi che lui ha avuto sono tornati anche quelli già diplomati, quindi diciamo è in suo onore la giornata dello sport perché è un fair play che lui ha insegnato agli studenti della nostra scuola. Due squadre di calcio del liceo si sono sfidate in una partita amichevole in suo onore per rivivere il suo spirito sportivo e la sua passione per il calcio. Oltre allo sport, il Bafile ha valorizzato anche l'eccellenza in altri campi. Sono stati esaltati anche gli studenti, infatti, vincitori delle Olimpiadi della Fisica, della Matematica e della Chimica che hanno dimostrato impegno e dedizione in queste discipline. I nostri ragazzi hanno fatto tutto questo con entusiasmo, piazzandosi nei primi posti, vincendo, piazzandosi con onore. Non è importanza, l'importante, come diceva qualcuno, è partecipare con onore e sempre rispettando la serietà degli studi che loro fanno. Lo sport e l'eccellenza rappresentano i valori fondanti del liceo Andrea Bafile, valori che vengono trasmessi ai ragazzi con dedizione e passione da parte di tutto il corpo docente, garantito.